perché gesù va a pranzare nella casa di levi si è venuto a sanare i malati perché non va a pranzare con i farisei gli scrivi oppure considera i farisei delle persone sane il problema non è ciò che gesù pensa dei farisei ma ciò che loro stessi pensano di essere i farisei si considerano delle brave persone sono loro quelli che compiono la legge alla perfezione sono loro i sapienti ricordiamo però che nessuno può sanare un malato che non accetta di avere bisogno di un medico levi invece è la persona in ricerca e colui che non ha paura di lasciarsi interrogare dai suoi limiti anzi sono questi limiti che gli fanno capire la necessità di trovare un medico capace di curarlo gesù accetta volentieri l'invito di levi perché egli essendo misericordioso non può non ascoltare il grido disperato di chi giace nelle tenebre del peccato siamo invitati oggi ad andare dal medico gesù e chiedergli di curare le nostre malattie prendiamo l'esempio di levi che ha saputo affidarsi del signore e gli ha aperto generosamente la sua casa e il suo cuore quali malattia spirituale ti impedisce di vivere pienamente una vita piena cosa potresti fare per cominciare il tuo cammino verso la guarigione hai mai pensato di avere una guida spirituale ho